Maestro che bello! Ma questo è il giardino dell'angelo con i baffi! Era un vecchio di qui! Dava da mangiare gli uccelli di legno! Tutti ridevano ma lui era ottimista! E gli uccelli presero il volo! Unieuro ha deciso di cambiare gli elettrodomestici agli italiani! Lavatrici più grandi dentro e intelligenti! Frigoriferi più belli e a bassi consumi! Cucine più sicure! Unieuro valuta il vostro usato fino a 300 euro! Gianni! L'ottimismo è il profumo da vita! L'ottimismo vola! Orco Dio! Unieuro e Unieuro City